cari amiche e cari amici chi avrebbe potuto pensare a un uso così creativo della maschera assolutamente un artista la mente di un artista e faccio questo video per segnalare il secondo progetto di questi amici che hanno un canale e che di ha gestito totalmente da artisti fatto per rilanciare l'arte e questa volta giocano con gli oggetti sacri diciamo dell'influenza globale è la seconda loro produzione è un cortometraggio veramente per tutte le età molto molto carino che si intitola 2021 le olimpiadi che non avete visto è un progetto di questo canale le luci di atlantide metto il link in descrizione assolutamente dovete scrivere e scrivervi per aiutare questi amici artisti è un progetto totalmente auto prodotto che gioca sull'ironia per far riflettere tra gli ideatori di questo progetto è massimo selis che voi già conoscete però in estrema sintesi questo è le luci di atlantide è anche un gruppo di artisti di persone che non hanno ceduto a certi ricatti che oggi il potere da parlo anche di ricatti di tipo sanitario e quindi hanno rischiato e rischiano ciascuno in prima persona ci tengo a dirlo a nome anche di tutti gli altri che fanno parte del collettivo perché in un momento in cui un potere ti ricatta vuol dire che ti lascia solo solo di fronte a una decisione per cui un tuo sì o un tuo no possono stravolgere la tua esistenza e farti cadere anche in una situazione di estrema povertà materiale le persone che fanno parte di questo collettivo hanno scelto di non piegarsi al ricatto cari amiche cari amici aiutiamo questi artisti che ci rimettono in prima persona e non sono disposti a sottostare al ricatto della dittatura a costo proprio di di finire in povertà dunque aiutiamoli come fare ad aiutarli iscrivetevi al canale le luci di atlantica lascio il link qui sotto e seguite man mano i loro progetti iscrivetevi subito il link in descrizione e in bocca al lupo veramente a questi carissimi amici in bocca al lupo di cuore